Allora, parliamo adesso di formazione. Si può diventare hair, steel, stylist, trilab se si viene da un'altra professione e quindi tante persone che ci chiedono una seconda chance, cioè dare loro dei suggerimenti per una seconda chance nella propria vita. Sono magari persone che hanno 35, 40 anni, 45 anni, sono uscite dal mondo del lavoro perché l'azienda ha chiuso, però il sogno della loro vita era sempre quello di mettere le mani nei capelli di qualcuno e di saperlo fare. C'è questa opportunità oppure bisogna necessariamente uscire dalle scuole medie e fare un percorso classico? Beh, allora, quello che ti posso dire Elena è che fra i trend di moda che abbiamo parlato adesso c'è anche un gran ritorno all'artigianato, quindi al lavoro manuale. E noi siamo a posto su questo. Come avevo già detto altre volte, trilab da sempre punta sulla formazione. All'inizio trilab puntava sulla formazione esclusiva delle persone che lavoravano all'interno dei nostri negozi. Poi man mano col tempo abbiamo deciso di sperimentare una formazione anche per chi veniva da fuori, quindi per chi vuole entrare in questo settore e quindi partire da zero. Come hai già anticipato tu, questi percorsi sono frequentati, Trilab Academy esiste più o meno già da 6-7 anni. Quindi ormai è già una sua storia, un background, è già un percorso bello solido che abbiamo cambiato con il tempo in varie formule perché prima era un po' più lungo, ma in questo momento le persone ci richiedevano soprattutto un corso veloce da poter mettere in pratica subito. Quindi non è la classica scuola dei tre anni, ma è un percorso di quattro mesi dove la persona entra all'interno dell'accademia. È un po' diverso ovviamente dalla scuola classica, nel senso che noi puntiamo molto anche sulla ludicità e sul intervenire in prima persona da parte degli allievi piuttosto che stare seduti e passivi e quindi anche senza nessuna esperienza entra in questo percorso iniziando pian piano dalle cose più base e poi arrivando alla conclusione dei quattro mesi ad essere completo su tutte le famiglie di questa professione. Quindi parliamo di colore, parliamo di pieghe, pieghe non solo fatte con il bigodino, con la spazzola, ma insegniamo anche delle tecniche più alla moda come può essere la piastra piuttosto che nel ferro e soprattutto l'allievo esce anche già con una capacità di taglio. Ah, in quattro mesi. In quattro mesi. Questa è una domanda ricorrente perché ho visto la tua espressione e anche a noi quando ci dicono, ci chiamano, vorrei avere informazioni della scuola e ci dicono, ah ma tutto questo solo in quattro mesi? Sì, nel senso vediamo le persone che escono che sono del tutto preparate. Questo perché? Perché la scuola va frequentata cinque giorni alla settimana, quattro o cinque giorni alla settimana, mezza giornata. Alterniamo delle giornate di training dove l'allievo impara, quindi acquisisce le tecniche, a delle giornate di working. Il working sono delle giornate dedicate completamente all'allenamento con l'affiancamento del trainer. Quindi l'allievo si prende la sua bella testina, in primis, la bambola che non parla, non si lamenta, che può essere tirata, scottata, e comincia il suo allenamento. Ovvio, poi però c'è il grande salto, nel senso che l'allievo non può rimanere solido e esclusivamente nella testina finta, ma diamo la possibilità ai nostri allievi anche di fare un work experience, quindi delle modelle, delle clienti, ipotetiche clienti, quindi che parlano, che si confrontano con i futuri parrucchieri, appunto danno la possibilità di avere un'esperienza molto di più che appunto il rapporto con la bambola e basta, fine a se stessa. Quindi è una formazione completa sostanzialmente? È una formazione completa, il training, il working e il work experience. Che cosa si impara? E quindi ogni giorno che cosa viene dato? Perché il vostro mondo è fatto di moda, di tendenze, di stili, di sensazioni, di sensibilità delle persone, e quindi non è solo la moda o lo stile che viene applicato alla persona, ma è anche vedere un po' la fisionomia, quindi c'è tanto da studiare, non è una cosa semplice. Si impara soprattutto formazione all'avanguardia, ovvero una formazione che l'allievo, una volta che è uscito, può immediatamente mettere in pratica. Quindi noi formatori siamo sempre... Personalizzare, quindi. Personalizzare, proporre e confrontarsi con un mercato che è sempre alla ricerca di nuove tecniche. L'allievo, come dicevo appunto, l'allievo può confrontarsi con un cliente sempre più esigente e noi formatori, dall'altra parte, siamo sempre in continua ricerca e in continuo aggiornamento anche dei moduli della formazione per dare appunto nozioni di oggi. Sì, infatti. Infatti il cliente è sempre più esigente, tanto il cliente uomo, che è molto esigente, perché adesso magari parleremo anche delle tendenze capelli uomo, dobbiamo farlo, perché sennò ci tirano i capelli appunto i nostri telespettatori, ma anche il cliente donna, quindi hanno delle aspettative alte, anche perché poi cambiano le aspettative in seguito a quello che uno vive, e la realtà, no? L'aspettative alte, la cliente è sempre più informata. Tra le altre cose, ecco. Sempre più studia, guarda sul web, tutorial, ce ne sono un'infinità, quindi alle volte arrivano che veramente quasi quasi sono spiazzanti perché sanno di tutto e di più rispetto alle tendenze, alla moda, al sapersi raccogliere i capelli. E quindi dicono già quello che vogliono, sanno con precisione. Sì, sempre di più sono molto sicure in quello che vogliono, è ovvio che però fortunatamente si affidano sempre al parrucchiere, quindi al professionista, che oltre al fatto di saper muovere le mani, sa anche tutta una base teorica di proposta in base a quello che è il look personale della cliente. Esatto, quali sono gli errori che voi riscontrate nelle clienti, nei clienti, nelle richieste? E quindi dove si sbaglia? Allora, tendenzialmente si sbaglia su l'approccio di magari colori rispetto al colore della pelle, tagli rispetto alla morfologia del viso, movimenti appunto sempre in base alla morfologia del viso che possono essere adatti ma anche no. Quindi uno è convinto che ci sia, ad esempio, che sto male col moro, magari uno sta benissimo, si fissa col biondo ed è un colore che magari non valorizza. Esatto, oppure, appunto, come diceva Giorgia prima, il fatto di avere un'icona che il cliente segue, fonte di ispirazione, eccetera, eccetera, può essere quella richiesta un po' spiazzante perché loro si rivedono un po' in quell'immagine e richiedono di essere riprodotte allo stesso modo. Però, alle volte, non è sempre possibile perché, appunto, i colori, il colore dell'occhio, la morfologia del viso è totalmente diversa. Quindi si scende un po' al compromesso, ovviamente. Quali sono i clienti più difficili, giovani o meno giovani? Sono due correnti completamente diverse. Perché, appunto, il giovane sicuramente è quello più informato, che sa, che è attaccato al web ormai, che si informa, che conosce quel prodotto piuttosto che l'altro. Tante volte, tante ragazze entrano nei negozi e mi chiedono dei prodotti molto particolari delle quali, alle volte, anche io mi trovo, scusa, un attimo, che vado a vedere, sì, sì, magari il prodotto che dà un effetto più spiaggia rispetto alla cera, che dà un effetto più matte, sì, ormai sono tutti molto, molto informate. La donna, invece, più matura è sempre quella che ricrea un rapporto personale con il suo parrucchiere e quindi si fida molto di più perché cerca proprio una consulenza per migliorare il proprio aspetto. Il giovane entra all'interno del negozio con le idee chiare. Voglio questo. Vi spiazza, quindi, quindi, è appunto per quello. Richiede una formazione costante, cioè essere aggiornate, quindi assolutamente. Continuo aggiornamento, continua formazione, guardare sempre per strada, piuttosto che in tv, alle passerelle, che comunque, appunto, faccio anche, dico, una piccola postilla, il fatto che fino a poco tempo fa nelle passerelle si vedeva più che altro il vestito, era tutto incentrato in quello, capelli non se ne vedevano più, cioè era proprio solo ed esclusivamente vestito. Ora, invece, c'è proprio anche un exploit del capello. Si vedono capelli raccolti, code, righe centrali, movimenti, quindi diventa tutto un mix per creare un outfit completo. Non può essere che in previsione futura, visto che voi cercate sempre, siete sempre all'anticipare le tendenze, ci possono essere i professionisti o le professioniste del settore giovani, quindi quelle più ardite, con corsi specialistici, quelle per il settore meno giovani, perché, come negli altri paesi, in tutto si va al massimo a specializzazione, dove poi si richiede un qualcosa di particolare. E quindi anche come persone più giovani, più ieie di tendenza, per quel target potrebbe essere. Ma infatti nel nostro settore ci sono tanti giovani, e questo io non sono tanto contenta, nel senso che il giovane ha un'aspettativa, una visione fresca, frizzante e quindi dà sicuramente un'impronta molto vivace al negozio oppure al lavoro che propone alla propria cliente. Ovvio, ci deve essere una professionalità di fondo. Assolutamente, perché mi aveva colpito un discorso tra una signora e la mamma, penso, con il figlio, che poi peraltro aveva avuto 15 anni, non chiesa quanto, che si rifiutava di andare dal parrucchiere unisex, peraltro, della madre, e aveva detto, no, io là non ci vengo perché sono vecchi. Poi peraltro, il vecchio è relativo, perché ovviamente, immagino che avranno avuto magari 40 anni, però un giovane forse non voleva farsi mettere le mani in testa da una persona che secondo un'idea astratta non sarebbe stata in grado di soddisfare le sue aspettative, che magari erano particolari, chissà. Ma io ti dico... Quindi sono mostrato molto categorico come giudizio e mi ha sorpreso, ho detto, ma un ragazzino di quell'età là, che già ha l'idea così... Quindi già ragazzino, è un cliente molto, molto esigente. Infatti, tra i miei nipoti piccolini, sono molto, molto, sono proprio prima media, perfettamente in linea. Io ho iniziato a lavorare 15 anni fa e 15 anni fa la ragazzina di 15-16 anni entrava con la mamma e la mamma ancora diceva glieli fai così, glieli pettini così e glieli tagli così. Adesso entrano la mamma, mutismo assoluto, e le ragazze sanno benissimo cosa fare, le mamme alzano le mani e via. Ecco, proprio per questo, che cosa chiedono le giovani donne e i giovani uomini? Anzi, cosa voi proponete per loro? Perché chiedono. Beh, le proposte... Qua sarebbe preferibile, qua stiamo vedendo anche delle immagini, però sono modelle effettivamente, quindi non si capisce mai se è il target giusto oppure se è un modello, quindi generico. Noi cerchiamo sempre di non generalizzare. È per quello, esatto. Ogni persona che entra all'interno del nostro salone va distinta per il proprio stile. Per quanto riguarda le ragazze, può entrare la ragazzina più scaltra, più rock. E voi la vedete subito come vestita, come si pone? Sì, si fa uno screening appena entra, si vede già da come apre la porta e da come è vestita. E appunto può avere un'aria un po' più rock, un po' più viva, e quindi magari chiede appunto degli inserti di colore più particolari, più pastello. Mentre invece un'altra ragazza un po' più classica, in movimenti molto morbidi, leggere schiariture, dipende. Cerchiamo di non lavorare sempre a compartimenti stagni, ma di personalizzare il look in base all'esigenza della persona. Più volte abbiamo parlato anche di location diverse, cioè la tendenza che può andare, adesso non so se puoi rispondermi tu oppure tu, perché io la butto lì, ma ci è stata chiesta da diversi messaggi, a Padova per esempio non è la stessa di Trieste, di Milano o di Roma. Oh sì, la cliente. Sì, 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 assolutamente. E c'è anche un modo di proporre i tagli diversi, vero? Sì, sì, sì. Sembra strano, perché comunque parliamo tra Veneto e Friuli, quindi immaginiamo anche andando giù, ci sarà un'altra diversità ancora, però effettivamente la cliente, per esempio, io ho lavorato nel negozio di mestre e una volta che tu hai instaurato il rapporto con lei ti dà carta bianca. Una cliente invece magari che può essere più in Friuli tende a dirti cosa fare o cosa non fare, quindi anche qui personalizzazione del, non tanto del servizio, in questo caso del rapporto che si instaura fra professionista e cliente e quindi sapersi cambiare un po' il cappello in base all'esigenza e alla richiesta. Però i tagli, le linee, gli stili di cui parlavamo sono tendenzialmente gli stessi a livello Italia oppure come un tempo Milano un po' all'avanguardia, Roma propone altre linee e il nord-est? Guarda, noi lavoriamo anche con Revlon Professional e facciamo la formazione in tutta Italia. Ti dico, la collezione internazionale che viene fatta appunto in Spagna da Miguel Garcia che è il direttore artistico di Revlon, anche lui lancia gli stessi messaggi che lanciamo noi. Per esempio, per lui il must è i capelli che non si tagliano più, che si fanno crescere, i capelli lunghi, che poi non vuol dire non tagliarli più. No, no, infatti non dia. Nel senso, il capello deve essere sempre curato, tagliato, sembra un'utopia, ma più lo tagli, più cresce e in modo sano. È vero, quindi sembra un'utopia. Ecco, per quel che riguarda la cura dei capelli, perché poi la formazione è anche applicazione dei prodotti, ce ne sono tantissime. Adesso il mercato, voi avete aperto anche qualcosa di interessante su web. Sì, un'altra appunto sfida di Trilab, oltre alla formazione proprio in loco come può essere Trilab Academy, abbiamo cominciato a lavorare in un nuovo progetto web, perché girando e avendo vari contatti ci siamo accorti che la richiesta appunto di una formazione veloce che io posso seguire anche da casa, grazie anche all'afflusso potente di questi tutorial, che li nomino spesso, però alla fine sono onnipresente ovunque, in qualsiasi sito, anche su Facebook, ovunque si trovano i tutorial, stiamo costruendo un nuovo progetto, quindi corsi sul web, acquistabili tramite il web, che il parrucchiere, qui parliamo di un parrucchiere però, già all'interno del settore, quindi una persona che si vuole aggiornare, vuole avere nuove tecniche, vuole per esempio avere più nozioni per quanto riguarda un argomento specifico, come può essere l'acconciatura o il colore o il taglio, però è una grande comodità, il parrucchiere non si deve più spostare a destra e a sinistra, quindi anche riduzione del costo, del corso, e può stoppare e provare e poi riaccendere, di riascoltare ogni volta che vuole un video e quindi acquisire nel migliore dei modi tutte le tecniche senza perdersi assolutamente nulla. Perfetto, poi parleremo anche dell'acquisto dei prodotti che può essere interessante, quindi un nuovo modo, una nuova strategia anche di proporli. Pubblicità a pochi secondi. Pubblicità a pochi secondi. Grazie.